Da dove arriva? Eccola. Ciao Sitara, ben ritrovata. Ciao. Buonasera Sitara. È così. Benvenuta. Salve. Stavamo parlando proprio di qualcosa che poi vi ha toccato molto in questo rapporto. La perdita di fiducia da parte tua relativamente a delle situazioni che sono emerse e che Gianluca adesso stava spiegando come non ci siamo capiti. Probabilmente, no? Però la perdita di fiducia è emersa, è stata molto forte. È la cosa che più alla fine ha rovinato, secondo me, il nostro rapporto. L'unica cosa. Qual era? Qual è questo evento? Questo? Questo evento. Lascio la parola a te. Ah beh, sì, fondamentalmente l'evento scatenante poi di tutto quello che c'è stato a livello di malintesi è stato il discorso della fiducia legato poi al mio passato, credo, no? Quindi il vedere totalmente in un modo opposto quello che è poi una storia finita. No, ti interrompo subito, non è così. Perché il giorno dopo il matrimonio io gli ho raccontato di avere un rapporto di amicizia con il mio ex fidanzato e lui mi ha detto io assolutamente non credo nell'amicizia, nei rapporti soprattutto tra ex. Quindi deduco che il fatto di sentire la sua ex non sia una cosa così amichevole. Quindi vedere questo suo comportamento, poi reiterato nel tempo, perché non è capitato una volta, si è contraddetto tante tante volte. Io purtroppo alla fine ho smesso di crederci e in quel momento sono stata male. Grazie. 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 Grazie.